Dopo aver parlato dell'aperitivo è arrivato il momento di analizzare in modo più dettagliato la scena durante il matrimonio. La musica durante la cena è essenzialmente tranquilla, soprattutto nella prima fase. Le persone ci tengono a parlare, non avere volume troppo sparato e che sia un accompagnamento del pasto. Ci sono però modi diversi per affrontare la scena di un matrimonio, ne suggerisco principalmente due. La prima è quella di una selezione di sottofondo per una scena comunque tutta abbastanza tranquilla. Sono scene magari che non sono troppo lunghe, diciamo quando la cena dura all'incirca un'ora e mezzo, allora si può pensare di fare una selezione e di tenere una linea abbastanza soft con musica bella d'ascolto sia italiana che straniera. L'opzione numero due è invece di iniziare a dare ritmo e una certa allegria alla serata anche durante la cena, soprattutto nella seconda parte. Se magari ci sono due primi due secondi, quindi all'incirca una scena che dura due ore, tenere tutto l'andamento piatto dall'inizio alla fine senza scossoni rischia di essere alla lunga noioso, soprattutto per gli ospiti. La scena è una parte piuttosto lunga all'interno di questo evento e allora può essere da valutare l'idea di creare un po' di ritmo magari nella seconda parte della scena. Se si tratta di un matrimonio di italiani, può essere un momento per mettere della musica italiana, magari dei classici della nostra musica italiana. Perché questo? Perché se anche le persone non ballano durante la cena, però può essere un sottofondo orecchiavele che non dispiace, che non guasta. Se qualcuno si mette a ballare, a cantare meglio, è sicuramente un ottimo risultato, ma non essendo così necessario, può comunque creare un momento piacevole e già divertente per preparare poi ai valli dopo la scena. Ovviamente se questo è nei gusti degli sposi. Invece gli sposi non apprezzano particolarmente la musica italiana, si può andare su qualcosa di pop, radiofonico o straniero. E ci sono tantissimi modi per creare un coinvolgimento, un divertimento già dalla scena. Però può essere da ipotizzare, mettiamo una prima ora tranquilla, con tutti i vari modi per fare un sottofondo soft, e una seconda invece più movimentata, che anche se non parte la festa già qui, comunque non dispiace a nessuno. Ci sono poi casi in cui invece vogliono veramente una cena che sia una festa. Allora lì può essere indicato magari già con l'uso del microfono, se non sei un DJ che parla, magari puoi avere qualcuno che ti accompagna, bravo a fare questo. Non dico tanto un animatore, che quello può essere un rompimento di scatola, scusate il termine, ma un buon intrattenimento nel quale si invitano gli ospiti a fare brindisi, si crea un inizio di coinvolgimento e di festa, e allora ci può essere quella fase in cui si può anche alzare il ritmo e aumentare il coinvolgimento. Ovviamente tutto deve essere coordinato molto bene con la cucina e con il catering. Se per esempio ci vogliono circa 20 minuti tra il secondo primo e il secondo, il tempo necessario di cottura, allora può essere un buono spazio per alzare il ritmo e cercare di far smuovere le persone. Allo stesso modo quando invece stanno arrivando i piatti, può essere opportuno abbassare di intensità e far rimettere a sedere le persone se in questo momento si sono alzate e si stanno muovendo o ballando. E così, anche lo stesso per i primi, in base alle cotture. Quando si crea uno spazio si può intervenire con la musica, aumentando il volume e il ritmo. Se hai suggerimenti particolari scrivi pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere Joggi sia su YouTube che su Facebook, e a presto.